Mancano cinque giornate alla fine del campionato, del Gela è lì al comando della gradatoria del torneo di eccellenza e guarda tutti dall'alto, con tutto il rispetto per le avversarie e proprio il posto giusto dove il club biancazzurro deve stare. Lo dice la storia, lo richiede il blasone. Stiamo parlando di una squadra che ha calcato però sceni importanti come la prima divisione e che dopo tanti anni di purgatorio, dopo tante battaglie, su campi di periferia sta risalendo. La Serie D è soltanto un punto di approdo, Gela merita altro. Intanto l'obiettivo che la dirigenza si era previssata ad inizio stagione si sta materializzando. È vero, lo raccontano le cronache, che non è stato semplice arrivare in cima alla gradatoria ma è altrettanto vero che il Gela da quando ha capito che bisognava darsi una mossa non ha più fallito un colpo e la classifica ne ha subito risentito. I biancazzurri comandano a quota 52 punti frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Hanno un vantaggio di 5 lunghezze rispetto alla più diretta inseguitrice, la San Cataldese. Hanno 6 punti in più rispetto alla terza, il Dattilo Noir. E domenica prossima altro impegno tra le Muramiche dopo quello del turno precedente conclusosi con il risultato tennistico di 6-0 ai danni della Libertas. Al Presti sarà di scena l'atletico Campofranco, formazione che occupa una posizione di classifica tranquilla e che reduce dalla vittoria per 1-0 conquistata contro il Mazzara. Per domenica prossima porte aperte dello stadio Vincenzo Presti agli studenti. Gli alunni delle scuole medie e superiori della città potranno assistere all'importante sfida per la corsa alla Serie D acquistando il tagliando della curva Angelo Boscaia al prezzo di 1 euro. Lo speciale biglietto verrà distribuito direttamente ed unicamente domani e venerdì da alcuni collaboratori della società Bianca Azzurra che grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici effettueranno la prevendita. Il tagliando avrà un colore diverso rispetto agli altri titoli di ingresso allo stadio. Il gelacalcio invita tutti gli studenti a colorare di Bianca Azzurro la curva affinché sia una giornata di festa e di gioia per il calcio gelese.